Salve a tutti, buon pomeriggio a tutti. Io credo che oggi da qui possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato al Presidente della Repubblica il nome che secondo noi al meglio può portare avanti con una leadership solida il contratto di governo che presto firmeremo tra le due forze politiche che al tavolo nell'ultima settimana e mezza hanno lavorato a questo contratto e ovviamente il nostro obiettivo come abbiamo sempre detto era ed è quello di migliorare la qualità della vita degli italiani. È un momento storico anche perché in questi 80 giorni noi abbiamo imposto un metodo, un metodo per il quale prima si discuteva di temi e poi si poteva discutere di nomi ed è giusto che sia così e che sia così anche nel futuro perché le questioni degli italiani vengono prima di ogni cosa. Io personalmente sono orgoglioso di aver portato al governo di questo Paese il nostro vero leader che è il programma elettorale. Ci sono le cinque stelle in questo contratto di governo. Ci sono i nostri 20 punti che abbiamo indicato in campagna elettorale. Ci sono tante soluzioni alle sofferenze degli italiani, dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero a più margini di bilancio a livello europeo, interventi sul Made in Italy per salvarlo, per proteggerlo o per rilanciarlo soprattutto. Ci sono la lotta al gioco d'azzardo, il superamento della buona scuola. Ci sono gli interventi sulla sanità, meritocrazia per chi è a capo delle aziende sanitarie locali, degli ospedali. Voglio andarmi a curare un ospedale dove chi è a capo di quell'ospedale deve ringraziare il suo curriculum e non un politico per stare lì. Dentro questo contratto ci sono le nostre grandi battaglie storiche. Quando dico le cinque stelle, la prima è l'acqua pubblica. Abbiamo tanto da fare e tanto da realizzare. E come capo politico del Movimento in questi 80 giorni posso dirvi che abbiamo lavorato notte e giorno insieme a Danilo Toninelli, Giulia Grillo e tanti altri esponenti del Movimento 5 Stelle per portare a casa questo risultato. Il nostro, qualora il Presidente della Repubblica dovesse valutare il nostro nome, un nome giusto, allora sarà un governo politico, sarà un governo che metterà al centro le questioni politiche, magari lo voglio dire anche a livello internazionale, fateci partire prima, poi ci criticate, avete tutto il diritto, però almeno fateci partire. Sarà un governo magari inaspettato, ma votato, perché non si basa sui cambi di casacca, non si basa sul tradimento del mandato elettorale. È un governo che nascerà intorno ad una contrattazione a rialzo sui temi, intorno a temi della giustizia importantissimi, che magari non piaceranno a tutti, ma ristabiliranno un po' di meritocrazia in questo Paese. È una grande occasione per l'Italia e voglio dire anche che su questo ci abbiamo lavorato tanto, ma siamo pienamente soddisfatti del lavoro. Nei prossimi giorni, nella prossima settimana, dopo che il Presidente avrà fatto le sue valutazioni, speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso per la Repubblica italiana. Sono stati 80 giorni, ma sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena di prendere un po' di tempo, di fare delle attente riflessioni, perché finalmente adesso nasce la Terza Repubblica. Grazie. Grazie.